Stiamo sviluppando questo nuovo dispositivo in ambito biotech e biomedicale nato dall'integrazione di diverse tecnologie microfluidica, ottica ed elettronica. Proponiamo un'alternativa economica a basso costo che ha moltissime potenzialità, abbiamo già trovato diversi campi di applicazione, abbiamo trovato anche molti riscontri positivi anche in ambito della ricerca, i veri e propri ricercatori sono anche molto interessati. Abbiamo vinto il Bando Spinner 2013, andiamo avanti!